Ma che ti credi di essere? Quello che dice come devono andare le cose, questo credo di essere. Per l'amor del cielo, no? Dove sono i miei soldi, cazzo? Non ti preoccupare. Mio zio è uno dei motivi per non stare su. Ti ammazzo! Cosa vuoi fare? Vuoi fare giù da conciato? Il signor soprano, giorni addietro, ha avuto uno svenimento. Che è stato un attacco di panico, lo dicono loro. Di cosa si occupa? Raccolta e riciclaggio di fiori. Senta, io non ce la faccio di parlare con gli psicologi. Da un po' di tempo ho la sensazione di arrivare sempre quando tutto sta fineggio. E il meglio è già passato. Se ripenso a mio padre, lui non è mai arrivato in alto come me. Ma in un certo senso gli è andata molto meglio. Aveva gente su cui comandare, gente con le palle. Così non dirai più in giro che non sono nessuno in confronto a quelli che comandavano una volta. Hai capito? Ma che mestiere e merda stiamo dicendo? Eh, non è più come una volta. Tu che non vieni? Chi? Ha telefonato una nonna. Balla in culota, così niente zio. Soprì, succede a non far niente. Menti, te lo lasso a lungo il sapientone. Guarda tua madre più forte di quanto credi. Non sono ancora morta, sfortunatamente per qualcuno. Sai di cosa mi sono accorto? Che dialoganza. Soprì, scoprì, 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 sc